Crediti per quasi 9 milioni di euro ritenuti fittizi relativi al cosiddetto bonus facciate sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Perugia, stesso provvedimento adottato per oltre 20 milioni di euro di quote societarie. Le fiamme gialle hanno dato così esecuzione ad un provvedimento preventivo emesso dal GIP su richiesta della procura del capoluogo Umbro nei confronti di quattro società che risulterebbero coinvolte in una frode relativa all'agevolazione fiscale introdotta dal Governo. L'operazione trae origine dall'attività di analisi condotta dal gruppo investigazione criminalità organizzate volta ad individuare profili di rischio connessi all'utilizzo distorto delle diverse misure agevolative sotto forma di crediti di imposta cedibili a terzi ed utilizzabili in compensazione per l'assolvimento di debiti tributari o monetizzabili presso banche ed altri intermediari finanziari. In tale contesto si spiega in una nota della procura di Perugia è emersa in particolare la posizione di una società operante nel settore della consulenza aziendale con sede legale fino alla seconda a metà del 2020 a Spoleto e successivamente a Roma dove risulterebbe non operative con un unico dipendente residente a Perugia fino a dicembre 2021. Secondo gli inquirenti la stessa dopo articolate concatenazioni di cessioni da parte di imprese risultate prive della benché minima struttura ed operatività aziendale e di persone fisiche gravate da precedenti penali e con limitate disponibilità reddituali per lo più residenti in Campania avrebbe acquisito la titolarità di crediti artatamente creati in parte ancora presenti nel proprio cassetto fiscale e in parte ceduti ad intermediari finanziari e quindi investiti monetizzati per poco più di un milione di euro.